174 capi di abbigliamento e 235 giocattoli sequestrati ad Arezzo durante l'Action Day, la giornata nazionale dedicata alla lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Ad eseguire i controlli la polizia locale di Arezzo, guidata dal comandante Augusto Cecchini. Gli agenti messi in campo sono stati 12 che hanno operato un'intera giornata con il coordinamento di tre ispettori. Un occhio particolare è stato riservato al quartiere di Saione. In totale sono state controllate 10 persone, di cui 9 extra comunitarie, tutte operanti nel settore commerciale. 4 di queste sono state sanzionate, una denunciata. I sequestri amministrativi sono stati 4 e a questi si è aggiunto un sequestro di carattere penale. Le relazioni hanno riguardato più che altro la vendita di prodotti tessili senza etichettatura, di giocattoli senza il marchio CEI, di accessorio e bigiotteria, senza indicazione delle composizioni minime obbligatorie. Le multe hanno toccato i 4.500 euro. Durante i controlli è stata identificata e fermata anche una persona nei pressi del Parco del Pionta, trovata in possesso di 3 grammi di hashish.